Centrocampista Biancoverde, buonasera Marco, una vittoria importante per l'Avellino per restare in scia a secondo posto, per scavalcare al momento il Picerno al terzo posto, insomma una vittoria che serviva. Buonasera, una vittoria che serviva a tutti i costi dopo il pareggio di Francavilla, non brillante come la vittoria di oggi, ma una vittoria che abbiamo cercato, abbiamo voluto e abbiamo meritato. Abbiamo superato il Picerno, aspettando i risultati di stasera e domani, ma noi pensiamo che continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Terza vittoria consecutiva in casa, quindi l'Avellino è riuscito ad invertire questo trend interno che dà maggiore valore anche ai pareggi che stanno arrivando fuori casa. Sono sette risultati utili di fila, due partite senza subire gol, insomma i numeri danno ragione in questo momento all'Avellino al di là dell'ambizione iniziale, però comunque c'è una stagione da completare e lo si può fare alla grande. Certo, c'è una stagione da completare, sappiamo tutti che volevamo un'altra posizione in primis, ma dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo più guardare, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, come hai detto tu abbiamo invertito la rutta in casa che avendola invertito prima, secondo me parlavamo di altro, però guardare indietro ormai non conta più nulla, quindi guardiamo avanti, partita dopo partita e bisogna continuare così, già da sabato prossimo su camposti come quello del Giuliano. Sarà un derby difficile, facendo un passo indietro sulla partita di oggi, Marco, avendola sbloccata subito, l'avete riuscito anche a gestire a larghi tratti la partita, chiudendola nel secondo tempo? Sì, abbiamo avuto un ottimo approccio, abbiamo battuto il calcio d'angolo dietro l'altro, abbiamo avuto subito un'occasione, poi la sbloccata Chico, poi abbiamo avuto due o tre occasioni dove potremmo raddoppiare, poi siamo stati bravi ad amministrare, poi c'è stata anche la punizione di Falbo, ci sono anche gli avversari, poi siamo andati nel secondo tempo diretti subito per cercare raddoppi, l'abbiamo trovato e poi abbiamo amministrato e potremmo sfruttare anche qualche ripartenza in più come abbiamo avuto alla fine con Chico, con Lorenzo, c'è stata l'espulsione, però sono contento di questa vittoria. Senti Marco, in conclusione, tu che sei messo molto spesso la fascia di capitano, sei uno dei leader di questo spogliatoio, te lo senti di fare un appello, la tifoseria bianco-verde, lo dicevamo prima, la stagione non è finita, di restare uniti, anche in virtù dello striscione che avete trovato fuori dalla porta ferraia di oggi? Sì, la stagione non è finita, io a nome della squadra dico che fa male vederli andare via dopo una vittoria, però non so perché, so che loro si aspettavano un'altra posizione di classifico, però io a nome della squadra ce la metteremo tutto per continuare a fare il nostro meglio, abbiamo bisogno di loro, lo devono sapere, lo sanno, so che lo sentono perché l'Avellino è in primis è loro, sono i tifosi e poi noi che ci lavoriamo, quindi dobbiamo ritornare il gruppo che eravamo, l'unione che avevamo prima dobbiamo cercare di ritornare a quelli che eravamo, lo so che si aspettano risultati per ritornare ad essere una cosa sola, però ci impegneremo per far sì che ritorniamo una cosa sola perché poi diventerà difficile per gli altri. Ti faccio chiarire, l'unione del gruppo non intendi quella dello spogliatoio? No, quello è intattissimo, quindi non c'è, nemmeno rispondo, quindi sono cose che non ci toccano perché siamo un gruppo unito che rima dalla stessa parte. Perfetto, grazie.